Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti-tappeto Nain 207x80. Questi tappeti sono annodati a mano nelle botteghe della città di Nain nella Persia centrale, vicino a Esfahan. Sono solitamente molto chiari con colore di fondo bianco panna o blu scuro, e un grande medaglione centrale. Alta densità di nodi e materiali di prima scelta fanno di questi tappeti un articolo di ottima qualità. Sono prodotti nella maggior parte dei formati e sono tra i tappeti più belli al mondo, molto apprezzati dai collezionisti. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.